Ciao, Benzio Benin, portavoce della delegazione di zona di Malcontenta. Anna Silvestri, portavoce della delegazione Nord della città. Minto Giorgio, portavoce della delegazione Catene Villabona. Un attimo solo, 10 secondi, qual è la vostra idea per Marghera? Una Marghera viva. Una Marghera partecipata. Una Marghera viva. E insieme? E insieme tutti e tre. Grazie.